Buongiorno, la situazione economica si caratterizza finora con una stabilizzazione della situazione economica in Cina dopo un ralentamento abbastanza forte da 18 mesi e un miglioramento della situazione economica per i paesi dell'Europa occidentale e anche degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti e in Europa siamo abbastanza fiduciosi che dopo un rimbalzo del consumo che si è visto recentemente avremo fra poco nel secondo semestre un miglioramento della situazione dell'investimento. Tutto questo dovrebbe portare la crescita sia in America che in Europa ha un livello un po' più migliore entro la fine di quest'anno rispetto all'inizio dell'anno. Per quanto riguarda i mercati emergenti, i paesi emergenti, vediamo che se la situazione si stabilizza in Cina con chiaramente secondo noi un miglioramento della situazione nei prossimi mesi, vediamo che per gli altri paesi ci sono ancora molti dubbi sulla capacità di questi paesi ad implementare le riforme strutturali necessite per poter portare un po' più al rialzo la crescita potenziale di questi paesi. Dunque una situazione nel 2015 che è migliore relativamente per i paesi occidentali americani o Europa. I due principali fattori di movimento sui mercati sia azionari che obbligazionari sono stati e rimangono la politica monetaria americana o piuttosto le attese per quanto riguarda questa politica monetaria e poi la crisi dell'Europa e della Grecia. Sul primo punto, adesso la domanda non è più di sapere quando va, se la politica monetaria americana si restringerà, ma quando si farà. Secondo il nostro scenario la politica monetaria si restringerà probabilmente a partire da settembre e certamente entro la fine di quest'anno. Questa mossa per la parte della Federal Reserve è molto importante perché sarà la prima volta da sette anni che c'è questo tipo di restringimento. Malgrado il fatto che i mercati, gli investitori siano pronti a ascoltare questo messaggio di alzamento dei tassi, crediamo che questa mossa avrà un impatto sui mercati, con probabilmente un rafforzamento del valore dell'orario, con delle incertezze più forti ancora sui paesi emergenti e poi chiaramente anche con un rialzo dei tassi a lungo termine in America. Questo significherà la fine di questo grande periodo nel quale la politica monetaria americana è stata veramente molto accomodante. Dall'altro lato la crisi in Europa, la crisi in Europa legata la situazione greccia. Pensiamo anche lì che un accordo si farà e che l'esito di questa crisi sarà risentita positivamente dai mercati e lì anticipiamo che ci sarà un rilievo dalla parte degli investitori istituzionali per ritornare sui mercati azionari principalmente. In conclusione, in termini di politica di investimento, il nostro scenario si basa su un miglioramento della situazione economica sia in America che in Europa, con qualche incertezza per quanto riguardano i mercati emergenti, le economie emergenti. Il fatto che la politica monetaria americana sarà più restritta e il fatto che l'Europa dovrebbe trovare una soluzione a questa crisi greca, sulla soluzione di breve termine, pensiamo che tutto questo ci pone ad anticipare un miglioramento dei mercati azionari europei, fra poco, dopo il consolidamento che abbiamo vissuto sull'ultimo mese, ma che probabilmente dopo l'estate ci sarà il ritorno delle incertezze per quanto riguarda la politica monetaria americana. Dunque tutto sommato significa che abbiamo avuto un bel primo semestre sia sull'azionario che l'obbligazionario e che probabilmente questo trimestre dovrebbe essere positivo per l'azionario europeo e che probabilmente alla fine dell'anno avremo qualche mossa, movimento di presa di beneficio su un anno che tutto sommato sarà un anno positivo per i mercati finanziari. Dunque un ottimismo cauto per la situazione futura a fine quest'anno con un po' più di volatilità sui mercati che dovrebbe essere messa a profitto da una gestione opportunistica, più tattica che durante il primo semestre. Vi ringrazio per la vostra attenzione e rimaniamo fiduciosi che avremo questa capacità di gestire più tatticamente il risparmio che ci conferete. Vi ringrazio per la vostra attenzione.